buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video di bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ho ricevuto la mail dal toon shop che è arrivato il pacco col nostro super ordine pagato all'incirca tra i vari 30 40 50 per cento pagato diciamo la metà quasi al 50 sì perché dovevamo spendere 240 euro e mi ha spesi solo 115 spedizione compresa e gratuita in quanto ritiravamo al toon shop niente vi accompagnatemi a prendere il pacco che poi a casa lo apriamo abbiamo ritirato il pacco niente purtroppo qua non ci stava perché è veramente grosso so però facciamo così ci vediamo a casa a casa bancomatti che lo apriamo insieme e vediamo se è tutto ok dai video l'appuntamento a casa ci vediamo per il caffè eccoci qui ragazzi ora apriamo il famigerato pacco e speriamo che ci sia tutto imballaggio vario ok allora il famoso pagliacetto unisex questo si è riusciti a portarlo a casa alla cifra di 6 euro e 50 questo qua era super scontato tipo al 70 per cento ora non mi ricordo sulle foto quant'era poi tre quattro ok praticamente allora anche questo vediamo controlliamo se tutto il pagliacetto c'era poi abbiamo la penna con mini astuccio anche questa l'abbiamo portata a casa quasi al 50 per cento ma ci sono i prezzi costa 19,90 e grazie all'opzione che vi abbiamo segnato l'altro giorno l'abbiamo portata a casa a 9 euro e 95 bellissimo bellissimo questo o come regalo o da tenere davvero stupenda in più lo mettiamo da parte il pezzo da 90 che era questo lo sconto del 50 per cento su questa borsa sempre con lo stile country questo qua è un regalo per qualcuno possiamo aprirla signora possiamo aprirla ok abbiamo la concessione per aprirla eccola qua è una borsa formata secchiello ecco qua bellissimo due anni fa siamo no l'anno scorso siamo riusciti a trovarla di un altro colore è una borsa da 50 euro della thun anche lei guardate il tema bellissimo ci è stata chiesta dalla regia di approfittare degli sconti una borsa da 50 euro siamo riusciti a portarla a casa a 25,95 c'è sempre con l'opzione degli sconti anche questa la teniamo in dispassi poi questo che pesa tanto questo è col pallinato perché è un prodotto che si può rompere ora vi facciamo vedere praticamente questi sono dei bicchieri da caffè bellissimi non so se si vedono tutti sempre a tema thun con decori thun questi li teniamo perché li facciamo aprire alla regia ne ha voluti lei si parte con l'oggettistica anche qua facendo tutti questi regali come diciamo per un totale di circa 240 euro abbiamo speso 115 e ci siamo sistemati amici parenti appassionati collezionisti della nostra cerchia per circa 1 o 2 anni soprattutto mia mamma quindi mamma non guardare il tuo video se no ti vedi i regali pinguino costella anche lui 8,50 euro e costava la bellezza di mi sembra anche lui si 17 euro questo qua non è prezzato questo qua è un componente che ci mancava per il nostro presepe questo qua è un componente che ci mancava per il nostro presepe l'asinello per completare il presepe anche lui ha farone 11 euro in quanto non è prezzato nemmeno lui e costava diciamo il doppio signora è lui? è precisamente lui la regia fa sì con la testa anzi io vi rilascio tutti qua e poi li mettiamo via Kuba stai dormendo? vuoi vedere l'asinello? Kuba guarda l'asinello come te vieni qua guarda l'asinello asinello e pinguino vuoi dare il bacio anche a pinguino? guarda l'u pinguino ok poi via questo ok anche qua abbiamo approfittato dello sconto per il pappagallo il pappagallo siamo riusciti a trovarlo anche uno o due anni fa con il fiorellino in bocca e da solo per fare più a tema inseparabili anche qua un altro bel pappagallo sì il prezzo della scatola non c'è e lui sempre viene 17 euro sono due pezzi ah sì due pezzi in pieno aveva presi due aveva presi due in quanto le persone in quanto ricercavano il pappagallo e la nostra cerchia familiare erano due in quanto nei negozi uno si riusciva a trovare era esaurito e praticamente esatto due pappagalli poi questa è bella questa è bella che sarà mia mamma quando la vede la slitta anche qua stupenda il prodotto marchiato 2016 quindi fuori produzione il prezzo sulla scatola non è presente però anche lui slitta con bimbi 11 euro anche qua siamo riusciti ad avere un ottimo prezzo poi questa è bella ok anche qua un altro super prezzo da collezione insomma non ha l'anno però diciamo che abbiamo visto recentemente in giro ok anche questo gruppo di renne 15 euro le renne che poi andranno a tirare le slitte si possono comporre in qualsiasi modo comunque le renne eccole qua eccole qua niente amici abbiamo aperto il pacco insieme abbiamo fatto un bel unboxing di un bello scatolone di 240 euro di prodotti Tune bicchieri sgioppinaggio var penna con astuccio borsa questo è un invito a seguire la pagina e essere diciamo avere l'occhio sempre sui bancomatti siamo in un momento totalmente differente dal Natale però prodotti del genere sotto Natale non in saldo avreste speso davvero una marea di soldi così siete riusciti a spendere il 50% perché alcuni di noi sulla pagina sul gruppo hanno postato che anche loro hanno comprato l'invito è cliccate mi piace seguiteci iscrivete al canale iscrivetevi al canale su Youtube in modo che potete rimanere sempre aggiornati sulle bombe in tempo reale in quanto ora con il formato che abbiamo adottato riusciamo a avvisarvi sempre per tempo sulle promo e anche come si partecipa come si fa a vincere davvero come spendere meno tante altre cose il mio invito è lasciate un like al video ci vediamo domani per una grande promo vi mando un saluto Michio86 un chiuso e mancomatti ciao 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 ciao